buongiorno a tutti amici di youtube oggi marina mi ha incastrato mi tocca mettere delle mensole qui nella specchiera del corridoio davanti alla finestra della gatta che se no sta scomoda e poi non lo so forse qualche altra cosa comunque diciamo che di domenica avrei preferito andare al mare comunque insomma abbiamo applicato queste queste manine queste manine qui belline ed ecco qua la nostra mensolina montata piace è una allora è fatta adesso andiamo a fare quell'altro vi andiamo a praticare questi gli altri fori della mensola grande abbiamo trovato un po di muro vuoto abbiamo fissato la prima staffa e ora andiamo a fare l'altra amici miei siamo stati sfortunati allora la prima staffa è andata bene perché l'ho fissata col tassello e tasselli legge perfettamente la seconda invece ho trovato praticamente un vuoto nel muro e quindi ora per un foro bisognerà praticare tutta una cosa particolare bisognerà praticamente fare un foro più molto più grosso spruzzare dentro una resina chimica che praticamente cementifica subito e quindi a quel punto il tassello reggerà però insomma una bella scorciatura via allora io preparo il tutto e ci vediamo dopo c'è una resina chimica adesso andiamo a fare delle siringate quindi adatta un napierstno perchè si trova un napierstno non è proprio una persona che non ha avuto se ha un piacere che in casa come i stessi stessi e per la calma non spavano le quali sono qui in casa sono tutti i piaccionati per essere sicuramente che è possibile non si trova non si trova il ciment si trova e non si stessi proprio uno dipendere ho imparato e non farlo e non farlo non farlo se ne fai in 20 cm e poi non farlo e poi non farlo a questo per me bisogna velocemente metterci e questo quando indurisce l'ora d'estate amici per concludere insomma fissate le staffe ho messo la mensola mi sono assentato nel mentre non ho potuto riprendere le fasi perché da un lavoretto che non doveva sembrare un lavoretto è diventato proprio un lavoretto perché siccome le staffe vanno due centimetri sotto il marmo i fori chiaramente non ci sono più per fissare la mensola sicché ho dovuto prendere il trapano fare i fori nuovi sulle staffe chimica e compagnia bella un lavoro di 10 minuti è diventato un lavoro di mezz'ora con notevole dispendio di energie anche perché al solito mi mancano le vitine corte e lo dovete tagliare a mano con la pinza immaginatevi che forse ci vuole tagliare una vite con la con la pinza a mano e quindi insomma è stato un po faticoso comunque alla fine siamo riusciti nei nostri propositi il gatto ora è felice c'è la su ciotola il suo posto sta all'ombra poverina che prima era il sole guarda gli si stava custionando me mezza vita e quindi diciamo che oggi abbiamo fatto la nostra buona azione la moglie la moglie è contenta allora saluto ciao alla prossima ciao